Un altro lutto ha colpito le marche e la città di Fabriano. Nella notte è morto Antonio Merloni, terzo genito di Aristide Merloni, fratello dell'ex presidente di Confindustria Vittorio, morto nel 2016, e dell'ex ministro e imprenditore Francesco. A un mese dalla morte di Andrea, la famiglia Merloni e il mondo dell'imprenditoria affrontano un'altra pesante perdita. Antonio Merloni era malato da tempo e avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 19 dicembre. Vedovo lascia la figlia Giovanna. È stato il fondatore dell'Antonio Merloni, di Venuta Ardo, azienda che tra gli anni 90 e 2000 divenne il più grande conto terzista d'Europa nel settore del bianco. La crisi, arrivata nel 2008, portò all'acquisizione dei diversi rami di azienda da parte di alcuni soggetti, tra cui l'ex JEP Industries, ora Indelfab, dichiarata fallita solo qualche giorno fa. Antonio Merloni è stato anche sindaco di Fabriano per tre mandati. A piangerlo, la città che tanto ha amato, il mondo della politica e dell'imprenditoria. Tra i messaggi più toccanti, quelli dell'ex presidente della regione Marche, Gian Mario Spacca, vicepresidente della fondazione Merloni. Una pagina significativa nella vita della nostra città si è completata, ha scritto Spacca nella sua pagina Facebook. Antonio Merloni se ne è andato silenziosamente, lasciandoci il ricordo di una stagione impetuosa di crescita e sviluppo che Fabriano non potrà dimenticare. È stato un imprenditore amico dei suoi operai e un sindaco amico dei suoi concittadini. Generoso e caparbio come i figli di questa aspra terra montana, riposi in pace. I funerali si svolgeranno martedì 15 dicembre alle 11 nella Chiesa della Misericordia a Fabriano. Il feretro sarà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Albacina.